www.morizopoli.it eccoci a voi con novità per quanto riguarda il fondo 394 gestito da Simest. Il giorno 27 luglio riapre la possibilità di presentare le domande al fondo. Sostegno gli investimenti per la transizione ecologica e digitale e il rafforzamento sia per la solidità patrimoniale con vocazione internazionale. Quindi vi porto poi l'articolo completo. Transizione digitale ecologica, inserimento in mercati, certificazioni e consulenze, fiere aderenti ed e-commerce, eppure temporary manager. Quindi dal 27 di luglio, dalle ore 9, è possibile inserire la domanda. I tassi previsti per questi finanziamenti sono dello 0,464%, con una quota del fondo perduto pari al 10%. È un mutuo a 72 mesi con 24 mesi di preammortamento. Molto interessante per le piccole e medie imprese. Vi riporto l'articolo. Alla prossima! Molto interessante per le piccole e medie imprese.